Buongiorno e benvenuti. La nostra ospite di oggi è Maria Antonietta Pugliese, è sposata, ha una bambina, crede negli affetti veri, nel silenzio terapeutico, nel martini tonic e nella scrittura che, dice, fra tutte le arti le è devastante e salvifica. L'ultimo suo libro, Storia di una fecondazione poco assistita, tra parentesi, dalla mia testa, ha il coraggio di non tacere l'intimo desiderio di maternità, anche quando si è inadatte al concepimento. Ne parliamo oggi con l'autrice. Buongiorno Maria Antonietta, benvenuta. Buongiorno Mercedes, grazie per questo invito. Grazie a lei per essere con noi. Io inizierei subito chiedendo, quando le è venuta l'idea di scrivere questo libro? Il libro ho cominciato a scriverlo durante il mio percorso di procreazione medicalmente assistita. In parte il libro racconta la mia storia, anzi, a dire la verità, la racconta tutta, non la racconta sempre con una rispondenza biografica perché altrimenti sarebbe stato un libro noiosissimo. Io a un certo punto ho desiderato, insieme a mio marito, di avere un figlio. Ci siamo accorti che il concepimento diventava complicato e ci siamo affidati ad un percorso medico-scientifico, per cui abbiamo cominciato questo percorso di procreazione medicalmente assistita. Nel mio caso il percorso si è sviluppato in anni con fasi alterne, episodi più felici, episodi meno felici e io ho cercato in questo vissuto uno svuotamento da quello che stavo vivendo perché la genitorialità è già un tema complesso e importante. La maternità che rientra nella genitorialità lo è stato altrettanto per quanto mi riguarda e chiaramente sono tecniche fisicamente ed emotivamente invasive come si può immaginare. Ho cominciato ad avere la percezione di vivere un altro tempo rispetto alla mia quotidianità lavorativa, amichevole, sociale, affettiva, familiare e questo mi ha creato dei depistaggi, degli sbandamenti, diciamo così. Credo. Ho capito che dovevo, tra virgolette, combattere questo percorso non sentendomi carente o mancante di qualcosa, ma sentendomi assolutamente forte e preparata per vivere questo percorso e nel farlo ho tirato fuori alcune delle caratteristiche della mia persona, che sono un po' questo spirito irriverente, un po' sopra le righe, ironico. Ho cercato di affrontare il tutto con un cinismo, ma un cinismo intelligente, ovviamente cercando di avere sempre rispetto di quello che in quel momento, in quegli anni era il mio vissuto, che oggi mi rendo conto essere il vissuto magari di altri, rispetto a cui credo di avere, spero di avere nel libro molto molto rispetto, che è la cosa più importante di tutte. Tra l'altro il libro è nato durante il covid, perché io il mio percorso l'ho fatto in quel periodo, quindi ho messo il segno di interpunzione finale al libro nel 2021 e il libro si chiude prima che nascesse mia figlia. Avevo fatto le beta, l'esito era positivo e di lì si sarebbe aperta un'altra storia. Quindi tutto quello che c'è nel libro riguarda la me che cerca una maternità, ma che non ce l'ha ancora. Certo, e presumo che sia la storia di tante donne che hanno avuto questo problema e lo stanno affrontando, per cui può essere anche un motivo di sostegno per questo percorso molto impegnativo. Tante donne e tante coppie, perché in questo libro, come scrivo all'inizio proprio del libro, lo dichiaro, è un libro non femminile, proprio femmina, animalescamente femmina, come non può essere diversamente perché, lo ripeto, l'ingerenza delle tecniche di procreazione medicalmente assistita nel corpo della donna e nel vissuto della donna, proprio per un fatto biologico, ovviamente è maggiore rispetto all'uomo. Anche quando la lancetta dell'infertilità è spostata maggiormente sulla questione maschile, non perché se ne debba fare una colpa, questa è una cosa che ci tengo a dire, non esistono colpe nell'infertilità, esistono cure e che oggi per fortuna con l'avanzamento della scienza è possibile affrontare sempre con delle risposte più importanti e mi auguro sempre più positive. È un discorso che riguarda la coppia, c'è la parte maschile, alle volte è anche una parte maschile bisfrattata. Io infatti ringrazio il mio marito che si è prestato ad essere messo a nudo insieme a me in questo libro, l'ha fatto anche lui con intelligenza, ma alla fine ce l'ho trascinato, devo essere sincera, come ho trascinato a me stessa, non tacendo nulla, ma non poteva essere diversamente trattandosi un argomento così. È un percorso di coppia, per questo è importante, si vive insieme questo percorso. Una domanda, mi ha colpito il titolo del libro, perché fecondazione poco assistita tra parentesi dalla mia testa? Allora questo ci tengo a dirlo, io sono sempre citando Camus il dritto e il rovescio di me stessa in ogni cosa, per cui era necessario mettere tra parentesi dalla mia testa. La storia di una fecondazione è chiaramente l'ammiccare a quella che scientificamente è chiamata procreazione medicalmente assistita, ovvero la cura che oggi viene data all'infertilità con tecniche di primo o secondo livello. Non mi addentro oltre perché ovviamente io non sono un medico, non sono una ginecologa, per cui insomma lascio a chi di competenza l'approfondimento di questo. Comunque la procreazione medicalmente assistita oggi finisce sotto l'acronimo PMA, tra l'altro sempre più diffuso perché è un argomento di cui oggi si parla, anche perché banalmente l'età media a cui si giunge alla genitorialità si è alzata negli ultimi anni, quindi insomma il ricorso a queste tecniche può diventare più frequente. Quindi storia di una fecondazione poco assistita richiama un po' le tecniche di sostegno all'infertilità, dalla mia testa lo dovevo assolutamente doverosamente dire perché poi dico questo, io nel libro non faccio sponsorship di niente perché non è questo il focus del libro e quindi non parlo mai di farmaci, non parlo mai di cliniche, non parlo mai di riferimenti al di fuori della mia persona perché questo mi è sembrato molto giusto, avere rispetto del percorso e perché mi rendo conto che magari chi lo sta svolgendo avrebbe potuto, come dire, complicarsi e farsi delle domande a cui non sono io titolata a rispondere perché è chiaro che questi sono percorsi rispetto a cui bisogna affidarsi al personale medico preparato, quindi ci tengo a dire questo. Però ovviamente c'è un gioco, io sono felice del percorso che ho fatto, sono stata molto assistita, devo essere sincera, il libro si chiude con un ode alla mia ginecologa che per me è un punto di riferimento fondamentale a cui devo la mia stessa vita e quindi la vita di mia figlia. Sono molto felice del percorso che ho avuto e di come sono stata seguita, sono stata poco assistita dalla mia testa, tanto che sono stata così folle da scriverci un libro e da farlo in questo modo, con un tono sopra le righe. Ma ripeto, per me è veramente stato uno svuotamento. Quando lei nella presentazione, la ringrazio, ho usato delle parole bellissime. È vero, la scrittura mi è salvifica, io non riesco a comprendere quello che non scrivo, è il mio scandale positivo sul mondo. Lo è stato anche in questa esperienza molto personale. il primo libro in cui racconto me stessa in maniera così preponderante, ma a un certo punto mi sono resa conto che per sopravvivere al percorso non avrei potuto fare diversamente. E le donne, parlo alle donne non per escludere nessuno, però per quello che ho detto precedentemente, le donne che stanno vivendo il percorso sono certe che colgono questo, perché è veramente un percorso che ti scava dentro e in parte ti deturpa dentro, ti deturpa nel senso che non sei più la stessa di prima, perché poi molto spesso si crede esternamente che, ok, non riesci ad avere figli, fai la PMA, quindi ricorri ad un percorso di prerogazione medicalmente assistita e come fosse un contratto scritto diventi madre, diventi padre. Ovviamente non è così. Non è vero. In medicina uno di uno non fa due, tanto più in questa medicina non può esserci un esito certo. Quindi è un percorso complicato che richiede un investimento personale, emotivo, psicologico, una messa in discussione continua, personale e di coppia, per chi diciamo il percorso lo fa di coppia, perché poi ci sono anche casi di monogenitorialità, quindi le difficoltà sono importanti. Per questo è interessante questo focalizzare dalla mia testa, perché veramente è un cambiamento totale della vita, è un cambiamento, ci sono gli alti, i bassi, le giornate sì, le giornate no, i dubbi, insomma come tutte le donne. Se posso, questo lo voglio raccontare perché credo possa essere importante. La parte centrale del libro racconta l'esperienza più dolorosa che nel mio caso è stata quella dell'aborto. Lo dico perché voglio essere sincera fino in fondo, veramente non ho taciuto nulla. Per me l'aborto è stato il dolore più grande più inspiegabile che io abbia mai avuto nella mia vita. Ed è un dolore che tutt'oggi che sono madre io non riesco a contestualizzare, a spiegare. Ho capito che quel dolore è un'altra cosa. Non fa parte del percorso di tutte e certamente io non lo auguro, quindi questo lo voglio dire, però quando anche accada questo, che probabilmente è il punto di caduta peggiore, questo libro vuole avere la forza di dire guarda te l'ho messo al centro del libro e lì non lo posso togliere, fa parte della mia vita, spero non faccia parte della tua, ma quando anche ne facesse parte ce la si può fare perché alla fine la cosa importante è che restiamo noi. Questo io me lo sono ricordata tante volte. Sono donna anche senza essere madre, sono me stessa anche senza essere madre, valgo comunque. Questo è un messaggio a cui tengo particolarmente. Certo. E questo mi dà proprio l'aggancio per la domanda successiva che io personalmente mi sono fatta due risate quando ho letto questo brano e assolutamente voglio rendere partecipe i nostri ascoltatori. Lei scrive, a proposito delle donne, a 28 anni ti chiedono a questo punto incessantemente quando ti fidanzi. Se ti fidanzi, a 30 ti chiedono con mitragliate di persona e telefoniche quando ti sposi. Se ti sposi, a 30 e un giorno cominciano a chiederti quando fai un figlio. Molti penseranno cosa c'è di male, è sempre stato così, però io mi chiedo, ma per forza ancora oggi la vita di una donna deve essere incentrata su queste aspettative? Allora, Marcia, adesso io la benedico per questa domanda, la ringrazio perché è veramente centrale. Allora, nonostante io abbia così fortemente cercato la mia maternità, nonostante io e mio marito avessimo così fortemente voluto questa genitorialità che non arrivava, il libro si apre con un'introduzione che volutamente ho chiamato avvertenze e precauzioni d'uso, come se fosse il bugiardino di un farmaco per dire, guardate, questo libro racconta questo, ma va bene comunque, cioè la donna non deve essere necessariamente madre, anzi uno dei punti fondamentali che si rovescia all'interno di questo testo è proprio questo, cioè il fatto che nel percorso noi siamo chiamate, la mia generazione, io sono nata negli anni 80, quindi diciamo ho vissuto gli anni 90 poi a seguire, sono cresciuta con un'educazione che mi spingeva a fare determinate tappe nella mia vita e mi sono resa conto che il mondo intorno continuava a chiedere da me in quanto donna il fidanzamento, il matrimonio, il figlio, ecco queste sono domande pesanti perché non possiamo sapere quello che una donna, un uomo, una coppia, qualsivoglia, ha desiderio di genitorialità, può non avercelo e va benissimo anche così, non sappiamo se lo sta cercando e non può averlo, non sappiamo quello che è il momento della sua vita che sta attraversando, quindi sarebbe bene che queste domande che vanno a toccare una sfera intima della persona probabilmente fossero tasciute perché nulla aggiungono e nulla tolgono all'identità della persona in quanto tale. Chiaramente nel libro questo è tutta un'iperbole ironica, è resciuta e seguita da dei passaggi fondamentali perché c'è un po', come dire, riprendendo Flaubert, l'educazione sentimentale, qui c'è quasi un discorso di educazione sessuale che va a toccare da Franca Rame, sua maestà Franca Rame, insomma, a cui molte sono legate, va a toccare questi temi anche un po' ironici, pruriginosi, fino all'educazione che abbiamo ricevuto nelle scuole o attraverso la televisione degli anni 90, insomma. Esatto. E quindi, come dire, dice delle cose con ironia ma in realtà sta dicendo delle grandi verità e probabilmente la mia generazione ha approcciato al sesso senza avere una adeguata preparazione perché l'educazione sessuale era questa grande tasciuta nelle famiglie in altri contesti. Certo. Come dire, è un libro che sicuramente parla a chi questo percorso lo sta facendo ma non lo fa in maniera esclusiva. Sì. Non vuole farlo in maniera esclusiva perché chi vive questo percorso non deve essere eradicato dalla socialità contestuale ma deve avere la possibilità di vivere il mondo nel contesto in cui si dicono anche delle cose a chi da fuori magari ti fa delle osservazioni che potrebbe evitare. Insomma, ci sono ripetuti nei confronti di chi insomma non riesce ad avere figli. Beato te, sapessi, io c'ho due gemelli, guarda se tu. Ecco, sono una serie di vivere. Sì, insomma. Possono essere evitate. Ci tengo anche a dire però che non risparmio se mi, insomma, utilizzo il linguaggio del libro ma ormai siamo in confidenza e stiamo comprendendo il ferruge della chiacchierata. Sì. Utilizzo anche delle frustrate verso me stessa e quindi chi è nel percorso perché chiaramente noi non siamo la verità, la vita e la via, non siamo il verbo. Non dobbiamo pensare che poiché stiamo vivendo questo percorso tutto c'è lecito e tutto va bene. Quindi, insomma, il libro fa questo. È un'altalena di sentimenti frizzanti e cerca di essere tonico come un cocktail. Sì, sì. Come il Martini Tonic dell'introduzione. Certamente. credo. Ha salvato molte fasi della mia vita, per cui. Certo, ci credo, ci credo. Sempre nel libro c'è una frase, la ricerca di un figlio può farti impazzire. In quale senso? Ecco, allora, ci tengo a dire questo, Mercedes. Chi sta leggendo il libro, soprattutto ovviamente chi sta vivendo il percorso, mi ha detto sorprendentemente anche per me perché quando io ho scritto quella frase era l'epilogo di quel passaggio del libro. Molte lettrici, molti lettori mi dicono guarda, quella frase mi ha colpito, è proprio così. La ricerca di un figlio può farti impazzire. E allora mi sono resa conto della potenza del concetto. Normalmente quando una coppia cerca un figlio comincia a provarci, però questo provarci quando comincia a dilatarsi nel tempo chiaramente comporta una serie di situazioni che possono andare dall'ironico al parossistico e quindi creare anche, e qui sono seria, degli attriti all'interno della coppia. Ecco, anche di coppia quando questo percorso lo si fa in due. La ricerca di un figlio può farti impazzire perché nel libro, anche quando si raccontano delle situazioni iperbolate, nel senso di lui o lei che si fanno negare al rapporto sessuale atto al concepimento accampando delle scuse assurde, in realtà il libro sta dicendo una cosa molto vera. Ecco, la parte passionale ed erotica in un rapporto può essere fortemente minata da questo. Ovviamente se si lascia passare del tempo in cui il concepimento non avviene, la donna comincia ad avere una vita di conteggio, cioè conto quando sono in ovulazione. Sì, entra quel loop dei giorni. Esatto, è un loop che inevitabilmente porta ad una frustrazione personale e di coppia. Questo lo voglio dire. Io nei miei profili social mi capita che qualcuna soprattutto mi scriva. E questo è una cosa che viene fuori. Una volta mi ha colpito molto una persona che mi ha scritto io purtroppo non ce l'ho fatta a salvare il mio rapporto di coppia. E questa cosa mi ha lasciata perché è stato difficile anche per me gestire questo. Certo. Per questo è una tematica veramente... Delicata, molto delicata. La scommessa di questo progetto editoriale è di trattarla con un tono di voce, un modo linguistico completamente diverso e lontano rispetto alla tematica, ma proprio per questo vuole sollevare attenzione. Cioè se si utilizza un tono così fuori le righe è perché probabilmente dentro quelle righe bisogna avere il coraggio di entrarci. Di entrarci, assolutamente. E sempre all'interno del libro si parla dei momenti critici della vita naturalmente, quando ci si trova in famiglia dove ci sono tanti nipoti e dove ci sono magari fratelli e sorelle che hanno figli. Per cui anche qui poi i nostri ascoltatori quando leggeranno il libro scopriranno l'arcano. Però la mia domanda è diretta. Meglio essere genitori o zii? Allora, non voglio citare il libro dei libri, il coeletto, c'è un tempo per ogni cosa, però sì, insomma, penso questo. Io mi sono divertita pazzamente con i miei nipoti e devo dire la verità, ad un certo punto della mia vita, essendo circondata da nipoti, e con nipoti intendo, insomma, anche figli di amici, di colleghi, c'è una persona che si vuole bene e che si frequenta. A un certo punto, nel mio caso, c'è stata questa trasformazione. Le nostre serate non erano più seduti a tavola, ma erano stesi per terra a giocare con i bambini. Quando ho capito che fondamentalmente quella dimensione cominciava a piacermi, ho capito che, insomma, questi messaggi sulla genitorialità che mi bombardavano esternamente, in realtà probabilmente mi stavano nascendo anche dentro. Ci tengo a dire una cosa, che è presente nel libro, in cui abbozzo, ovviamente in maniera ironica, due teoremi sulla genitorialità. Dico, il primo teorema della genitorialità dice che siamo tutti splendidi con i figli degli altri e con i nostri, che le cose... Il secondo teorema dice, ovviamente, che non esiste alcun teorema. Cosa voglio dire? Voglio dire che, chiaramente, poi avere un figlio, un'altra storia, probabilmente sarà un altro libro, è tutta un'altra cosa, però è il senso stesso della vita, della mia vita. E attenzione, ripetiamo quello che abbiamo detto prima, non deve essere così per tutte. Per tutti, però. Io, infatti, fatico tantissimo. E il percorso di prograzia mentalmente assistita complica questo, la propria vita professionale. È difficile, perché poi la prograzia assistita comporta una serie di monitoraggi, di incontri con il proprio medico, eccetera, che devono essere schedulati precisamente, perché poi i giorni sono importanti, e conciliare la vita personale e professionale non è affatto semplice. Quindi, insomma, io, non so se posso dirlo, ma in questo io non c'è solo Maria Antonietta, c'è, insomma, un io femminile, se mi posso permettere, mi sento un eyeliner nella mia gestione della quotidianità. E quindi, non rinuncio, non rinuncio alla mia integrità, perché se non fossi donna, professionista, probabilmente sarei meno madre, nel senso che darei meno cose a mia figlia. Sì, sarebbe forse più difficile gestire determinate situazioni. Siamo arrivati al termine della nostra chiacchierata e approfitto per chiederle quali consigli può dare alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori, alle coppie che si trovano nella situazione in cui si è trovata lei con suo marito? Allora, questo non è un libro motivazionale, a tratti è demotivazionale, nel senso, ripeto quello che ho detto prima, non risparmia niente nessuno perché non risparmia me stessa. Però cosa sento di dire? In maniera ampia e diffusa, mi piace dire questo, va bene anche così. La vita non è semplice per nessuno oggi, conciliare le proprie cose, le proprie ambizioni, i propri sogni, stare al passo anche con un ambiente urbano, cittadino, quotidiano, lavorativo che spesso stride con quello che intimamente sentiamo e percepiamo. Quindi già ci sono complicazioni basilari. Prima cosa, va bene come siamo. Va bene essere felici di quello che siamo se riteniamo in un percorso di miglioramento va bene. Quindi qui parlo a chi è nel percorso o è nella difficoltà di volere una genitorialità o cercare un figlio che non arriva. Io sento sicuramente di consigliare di affidarsi ad un percorso medico, mi rendo conto che non è semplice perché ci sono una serie di cose, ci sono persone che non accettano questo perché si sentono monche, colpevoli. con calma e con fermezza è chiaro che io non posso che consigliare di affidarsi a dei professionisti. Nell'affidarsi però non dimenticare che siamo come siamo e va bene anche così. Comunque vada, è la cosa più importante. Certo. Posso vedere un ultimo passaggio? Ma assolutamente sì. C'è questo che il libro fa parte di una campagna di crowdfunding. Sì, è vero. Ci tengo a dirlo perché in realtà si tratta di un progetto editoriale affidato alla casa editrice Bookabook che ha realizzato questa campagna di crowdfunding credendo fortemente che debba essere il lettore a scegliere la propria lettura. Questa campagna di crowdfunding ha come obiettivo la realizzazione di 200 copie in 100 giorni. Questo vuol dire che i lettori possono al link della casa editrice una storia di una fecondazione poco assistita dalla mia testa trovare la sinossi del libro, qualcosa sulla mia biografia, avere un'anteprima del testo e il progetto editoriale significa che si sta costruendo. Il crowdfunding, devo dire, e chiudo, sono molto felice e sta andando benissimo perché ad ora mancano 68 giorni quindi ancora un mese e mezzo e mancano solo 48 copie all'obiettivo. Raggiungere l'obiettivo significa vedere questo libro in libreria. Io ci spero tanto ma non solo per me. Ci spero perché credo fortemente non voglio essere piageristica e non voglio incensare me stessa oltremodo e più del dovuto credo fortemente che possa essere un libro utile quindi ci credo e mi fa piacere se ci può essere un buzz un parlare intorno a questo libro e sarei molto felice. Ecco, per questo ringrazio fortemente questa occasione di dialogo. Grazie a lei grazie a lei per il suo entusiasmo con il quale ci ha raccontato un periodo della sua vita che insomma non è stato sicuramente facile però lei è riuscita a trasformarlo in un, come diceva, un momento tonico e l'ha superato ed è arrivata la bimba per cui complimenti veramente ringrazio ancora Maria Antonietta Pugliese e ringrazio i nostri ascoltatori buona giornata a tutti